Dopo 105 giorni il Sassuolo torna a vincere al Mappei Stadium. La formazione di Eusebio Di Francesco non batteva gli avversari dall'8 di novembre, giorno in cui i Neroverdi batterono il Carpi 1-0. Da quel derby in avanti pareggi e sconfitte, ma il bottino pieno. Stavolta sono arrivati tre punti in una partita veramente pazza, che poteva essere compromessa dall'espulsione di Missiroli, ingiusta, ingiusta anche l'espulsione di Tonelli. Dice questo l'armo viola di questa gara, ma alla fine il Sassuolo è riuscito a imporsi 3-2 grazie alla rete di Berardi, Berardi che quando segna è sempre decisivo, era stato nella sfida con l'Inter di sei turni fa, sei turni dopo. Segna Berardi, segna soprattutto Griguard Defrel con una doppietta e il Sassuolo torna a vincere. Soprattutto ha dato merito ad Eusebio Di Francesco di aver creduto nelle qualità di Griguard Defrel, un giocatore che andava semplicemente aspettato. È un ottimo calciatore, ha segnato doppietta oggi e ha contribuito alla vittoria del Sassuolo. Un Sassuolo che ora avvicina la salvezza, può guardare al futuro con più ottimismo, ma soprattutto questa squadra può giocare a cuor leggero e si può togliere delle soddisfazioni in questo finale di campionato. Un torneo che fin qui è stato veramente molto positivo per la formazione nero-verde, era l'obiettivo la salvezza, era l'obiettivo di inizio stagione, ormai è stato centrato e da qui a fine stagione ci sarà una squadra che può giocare, può migliorare, può cominciare a gettare le basi per il prossimo campionato. Scusate la voce, alla prossima!